Il nostro scopo è quello di promuovere la danza spontanea, il ballare. La danza riprende molti movimenti della vita quotidiana ed è per questo che chiunque può ballare. Non importa l'età, il sesso o perché si pensa di non essere portati. Essa è dentro ognuno di noi. Siamo nati per ballare. Grazie a tutti.